E' di almeno 40 morti e 16 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel sud dell'Afghanistan che ha coinvolto un autobus pieno di passeggeri. Il mezzo ha preso fuoco dopo essersi scontrato con un'autocisterna che trasportava combustibile. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Kandahar e di Elman.